Le sorelle in Corvaia con i rispettivi fidanzati. Cosa sta succedendo? Cliz in Corvaia ha ricevuto a Capodanno uno splendido anello. Sarà una sposa bellissima con il suo Paolo Ciavato. Hanno trascorso una bellissima vacanza sulla neve nel Trentino Alto Adige in compagnia dei genitori di Nina e Gabriele, i loro bimbi, e della sorella Micoli. Ma tra questo splendido gruppetto mancava il simpaticone del gruppo, nonché il fidanzato di Micol, Edoardo Tavassi. I due ragazzi, Micol e Edoardo, hanno trascorso il Natale assieme. Poi Micol è partita per le vacanze con la sua famiglia ed Edoardo, e rimasto da solo a Roma. Il ragazzo era pieno di impegni per via di Radio Cusano ed altre cose, ma nonostante questo ha avuto il tempo di organizzare una gara, pensate, di pannettoni con i suoi amici Diana del Bufalo e Cristiano Caccamo. Edoardo ha trascorso il Capodanno da solo, a Roma, a mangiare tartine fatte da lui. Invece Micol era in montagna con la sua famiglia, quindi gli incorvassi hanno festeggiato il Capodanno da separati. Certamente per lavoro, o c'è anche una piccola crisi in atto. E voi come la pensate?